eccoci qua bene allora abbiamo appena sconfitto tutti sti zombie del cavolo che ci hanno invaso i nostri dintorni praticamente anche se sinceramente mi pare piuttosto inutile ma perchè stai andando di qua? perchè è giusta hai ragione comunque quell'attacco dei zombie era piuttosto inutile vero? si ma tanto per farti riscaldamento non ti ricordi quando ti ricordi? no guardi stavo guardando la mappa e non ti ricordi e non ha visto questo coso qua che cos'è ah avverire per i zombie bellissimo vuoi entrare da qua? si perchè ti ricordi che c'era che non potevamo aprire perchè c'è c'è qualcosa qui che lampeggia non si è mai visto c'è qualcosa di interessante? rimuovi la barricchata si perchè adesso abbiamo un martello ti ricordi che abbiamo preso il martello più veloce comunque quel punto eh venga anche che devo fargli c'è che cosa eh si ma se siete nei guai devi essere velocissimo ma aspetta ma qua non c'erano zombie dove andate fin? ma hai detto scusate sarebbe un detto sto coso eh cosa raccogli assi assi oh adesso hai racconto gli assi questo adesso puoi mettere barricate si ma non c'è bisogno qua allora andiamo avanti avanti potrebbe essere utile eh si ma guarda cosa non c'è bisogno ti ricordi che qua ci sono sempre i zombie ti ricordi che qua ci sono sempre i zombie mi preoccupo eh ci sono pure i ratti passa sotto abbiamo capito che alcuni così rossi sono anche i ratti oh sai siamo qui dove eravamo prima lo so guarda qua l'hanno zombie dove? no no non li vedi nella mappa perchè sei nel piano superiore però guarda 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 adesso lo schermo ah che figata eh no bombi utilizzaci sinistro utilizzaci sinistro perchè ti vedi più comodo come? ti vedi più comodo destro eh quindi se non ne vedi quei in fondo uno zombie comunque ti sto guardando dallo schermo per per arti il culo dove sono i zombie che vedi? no vuoi che sono un zombie a sinistra non vedo nessuno minchiasimo dai capelli quello si quando vuoi camminare a quarti? e tu devi attirare il pezzo degli altri se c'è un altro vabbè si ho sentito già se quale ti vai a scendere? ecco si è uscito allora dovremmo scendere prima mi dice se c'è qualcuno qua in zona no non vedi quello in zona del pianos inferiore eh non mi piace un bel suono un bel suono un bel suono eccoci si ricorda che ci possa essere qua c'è l'allarme no eh le cose sarebbero state diverse se avessero dal retaggio ma che sono fuori? oh non è giusto ma è proprio un faggio ma è proprio un faggio no? ferma gratti allora dove è l'obiettivo? che devi andare verso destra verso destra guarda l'obiettivo dove ti dice mi sono mai eh decisi di andare indietro adesso guarda guarda se c'era qualche cosa da raccogliere no non c'è per l'ora ma uno di questi mi mi farà stata in aria no non sto scherzando mica mi fa più paura quella porta l'unica che vai a sinistra no aspetta per me che ti dicevo cosa qua ok minchia eh casa mia non è niente casa tua non è neanche sicuro non è dietro simon ma lo vedete questo qua quando ci va d'altra parte che buio mi sa che devi andare a sinistra minchia ma quante ca... quando ti... ma dove siamo qua metropolitana si è metropolitana non ti ricordi all'inizio che dice il tube è una metropolitana non so perchè ma qualcuno mi farà del male fisico o mentali solamente per andare a fare la prossima missione ci stiamo mettendo un po' ok dai velocizzo no non velocizzare meglio essere più prudenti ma dovevo andare forse c'è un buco nel muro ma... benissimo apriamo sta porta ok adesso siamo senza mappa perchè senza mappa? perchè non va a parte ok ma se faccio così anche senza mappa me lo trovi zombie? si si però non nei piani dove sei cavolo già non mi piace ah Simo usa che paura ah Simo per me adesso qua i salti arrivano sempre di più c'è mica di gamepad dove se mi ammazzi o meno e usa è una scritta a sinistra aspetta qua che non mi dò più niente dove? c'è ma non so pronunciare niente kick più dead ah kick vabbè graffi uno si mette a fare graffiti che so era come l'episodio 1 che mi è comparsa mentre salio da scale terzo ah terzo episodio ciao prepper ciao prepper un telecamera eh ma il prepper che ci osserva ah perché ci devi dare non si alza il culo dalla sedia e ci viene a dare una mano eh tu faresti così per uno sconosciuto che ne so devo fare? niente ah non è quello del telecamere solo no c'è la cosa da ampeggia ferma non sprecare l'energia allora qui mi ha fatto vedere che non... ah ho mio zombie alla mia sinistra va bene oh cristo è una fortezza ma non gioco puoi scommettere sicuro che è pieno di proiettili e munizioni uh uh lo zombie non mi mette anche da vivo perché poi vi sa anche dalla mappa no ma guarda che quel che non si muove non ne sono attento non fai rumore non è perché secondo me negli zambi adesso what the fuck fa culo se guarda una mappa fottici ok dietro ogni angolo di guardare si ma no andatevi vai si ma vedete guardati dietro per te vi avevi detto no guardati ora ogni angolo eh guarda la mappa due secondi niente 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 nooo non ho fatto scusate e ti si ricordo che ti prima ero sinistro no vero fa un problema mi sono fatta la vista ma sai perchè mi secondo me non te l'ha visto perchè è in piano inferiore lui gli ho guardato solamente dentro ma sembra che scolpa quella che sta facendo le scale è uscito da qua è uscito no non è uscito secondo me era la inaguato oh cazzo ho un corpo oddio che cosa è quella cosa che non è un corpo pure viva che bastardi mi fa una posta Simo però non ritardate per favore che mi fa venire più un colpo a me che a te ma sono tutti vuoti ora eh ehm ehm razzola sicuro? sicuro posso tenermi pronto? ma guarda Simo chiudi spegni un po' no c'è il 33esimo aspetta esatto allora Simo questo sono i io vedo una mappa mi sono dimenticato dei ratti allora dove vado? io ho sempre paura di questi cunicoli destra destra guarda di dietro si ma ti guarda che è il tasto r si giù se fate di destra ho schiacciato ma cos'è quella che sta? si ma vai a sinistra vai giù io ho paura vuoi capirlo no è che c'era il simbolino del safe house sulla porta sono i ratti no questo è proprio un zombie in forno c'era un zombie non so perchè per te è tutto un zombie adesso ho capito allora ho utilizzato adesso? ho utilizzato adesso? niente non c'è niente poi quelli fermi non li cortano però ci mettono un po' a svegliarsi quindi boh no peccato no è un tombino ma è un tombino io ci vedo le mutande prendi lo scorciato e gli sale no tu sai cosa per scapire? io tengo sempre il cuore aperto scusatemi ma sapete dopo l'esperienza salire le scale trovasse zombie non è un zombie non è stato tantissimo tanto bello si è andato a vedere il compagno dietro infatti quella è la sua cosa ok nizca una cosa scusate ma noi siamo venuti scusa no 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 e qua c'è un'altra cosa eh sali stiamo uscendo oh oh dici che abbiamo qualcosa qua il cartello è un zombie e scappo dentro qua ci sono le zombie eh Dio e vedete che aveva fatto anche il pad Dio santo fermo fermo non mi convince non mi piace aspetta chiudo la porta non si sa mai che prima che un po' di zombie da dietro non vorrei oh cavo di polizia ma no queste sono le forze speciali cioè mi metterò indietro? si ok torrimaccene indietro no perchè l'abito ti dice di qua direi dove ci andavo allora mi sa che era chiuso serve qualcosa vanno a caricare il rato ce ne vanno davanti e del singolo non sono ratti questi questi non sono ratti questi non sono ratti uno a destra due ci sono uno che si muove pure anche dall'altra parte ecco io o spai se mi sa più che è più forte ci sono più di uno ci sono tre un qualcuno sarà il corpo infatti guarda che ci sono dei corpi wow bravo quello che c'è di ti insegna eh mi sa più di uno ci sono tre allora ti dico già che usa i radar guarda no l'altro tipo di radar quale? lo scanner ecco eh va farebbe dai ti controlla cosa sono questi cosi? eh ho perso usa disanalizza eh tieni premuto magari tieni premuto ti dico ti dico usate che per il padre che si muove ma ah ci sono gli oggetti la quindi ah no ti dico giusto ah niente puoi qua puoi no guardati dietro qualcuno sarà il ratto succo quindi vita e qua non puoi raccogliere perchè mi sa che evite energie non mi ah ma io sono a sinistra io che sto impazzendo mi sono ratti ratti bastardi se non secondo me che ti prepara la pistola ho una bruttissima sensazione eh c'ho 20.000 canti mi dice brucia figli di dai vieni qua venite qua bravi così vi voglio ok così ce li togliamo le scarpe mentre guardami la mappa wow no guarda ti ricordi che compare il coso davanti secondo me ho paura no no ma vabbè bisogna della superficie di cosa Pompa il croco ho paura che ti vedo troppo vicini ce l'ho una a destra va beh ho bisogno di ad arrigliare ti va bene buoni mi sto muovendo cos'è simbolo ci sono più di una sinistra te lo chiedi che poi c'è più di due scuole guardati devo andare io a prenderli mi prendo loro a me guarda che questi possono arrampicarsi guardate a destra andai a prenderli non fermo andai a prenderli io quando abbiamo giocato in multiplayer ci sono quelli corrosivi ci sono quel casco va dietro no dietro dietro quella mia mappa c'è qualcuno dietro dietro qualcosa cosa c'è ma figlia di tua mamma vedi che ti prendi un po' da buon abilità c'è qualcun altro ma non arrivano poi eh chiedilo chiedilo zombie da dove venite? ah da buco nero ok non lo sapevo scusa non avete mai risposto alla fine ecco ci sei tutti c'è 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 che si può lui pezzi di merda c'è tra altri zombie pezzi di merda dietro mi sa che sto sentendo qual è andare a coda dell'allarme no? si analizza oh mica la mappa oh finalmente sono prendo la porta cazzo faccio? non ce la faranno mi sa che sarà più di uno prende la vita mi sa che sarà più di uno mi sa che sarà più di uno non scappa dietro e sali sulle cose sali sulle cose era di qua aspetta era qui e dove prende un po' di vita e che fuori dalla mappa? e sarà un topo allora bene non ti sali comunque eeeh quel tipo di vita prendo? nicchia ti sono spaventato neanche io prendo questo? si eh ho utilizzato anche la che a fare? no eh poi mettiti anche un po' di mun- un po' di mun- di munizioni che ti prendi munizioni? guarda la mappa ti prego ti prego guarda la mappa oh oh mi sta entrando col curo dalla però di forte si stanno strascicando sta strascicando stanno strascicando morto però a me potranno non fidarmi un po' di una giornata si hai visto hanno aperto la mia bella porta così non deve neanche ma non ci sarà qualcun altro ma non ci sarà qualcun altro chiudi chiudi divanti si cazzo polizia ci perde un po' troppo tempo eh secondo me non mi convince quello che c'è dietro all'angolo eh non puoi salvare? no perché devi per forza andare a trovarti una cosa per il salvataggio oro e gioielli non valgono più nulla che rabbino guardati a destra guardati dietro ci dovrebbe essere delle municioni però adesso ce le scarico giornali allora siamo di redi contro la destra comunque mi sa che avete che durante la registrazione si è perso guarda dietro no c'è qua tutti di fronte si ma io mi sa che dietro c'è qualcosa di interessante chiudi la porta? non qua dietro lo chiudi la porta? se no mi entro i zombie qui si per il cattivo che mi stanno dietro? si contro noi vedete mi ho visto delle casse scusa quanto drosto coso? eh negativo ha detto infetto positivo ok che cosa è successo? ah niente c'è c'è un zombie 3 metri integrale devi guardare nel cassonetto le loce topi? vado mangiarmi topi? no non mi conviene però c'è stato negativo prima c'è stato negativo prima c'è stato negativo io incontrò sempre la mappa eh scusa non sa mai eh si ma guarda che se puoi rubarlo non si alza più non ne puoi arrivare al campo comunque da la bravo bene uno deve aver paura anche a prendere gli oggetti che è sto coso? novità munizioni munizioni diverse eh Simo metti le munizioni alla pistola queste alla pistola Massimo ti ti reggici ok Simo alza ti ricordo che devi fare veloce non si sa mai eh alza devi prenderci un po' di tu non lo fermo guarda quei poveracci mi sono ammazzati ripensando di essere al sicuro convinti che le guardie non mi avrebbero di sé che c'ha? io ho paura aiutati che Dio ti aiuta non dimenticare aiutati che Dio ti aiuta oh davanti davanti merda quale c'è col casco prendi la pistola prendi la pistola non so bravo a dare le pistole mira con la sinistra la testa a due andate ancora ancora no che mi è di merda ancora devi devi c'è qualcuno dietro Matti no che mi è di merda che c'ho io ragazzi non c'è più ok prendi ammazzati a cricket cazzo ti ha fatto il coppo critico game over